arrivati a roma si inizia con un buon cornetto perché sono le otto e un quarto di mattina ma come tu fighiassi tu me l'ho offerto un follower ma perché anche qua ci conoscono a roma che faccio foto dell'aria rip ah si no non me ne sono accorto ragazzi siamo ufficialmente a roma quindi tutti i romani e che purtroppo lo vedete a distanza di due settimane noi saremo a casuccia nostra vabbè conte mangia io mangio un cornetto vuoto e dobbiamo aspettare qua abbiamo il volo per il cairo alle 13.05 sull'otto di mattina l'ho tenguato la moglie da aspettare perché conte il volo per il cairo era molto prima ma per risparmiare l'ha allungato e scelto a dopo il conte alla ricerca di follower qua all'aeroporto di roma benvenuti aeroporti di roma siamo a roma e alla ricerca di follower per chi non vuole pagare il pranzo questo che ha spostato il volo scelto guardatelo guardatelo poi ora vi faccio dire una cosa che mi ha detto prima cosa mi ha detto prima cosa mi ha detto prima come devo camminare qua all'aeroporto di roma un po un po come gli occhi con gli occhi bassi perché perché spiega vabbè ragazza dopo che lui era sempre alla ricerca di follower vediamo qualcosa combinerà in aeroporto in attesa delle 13 per arrivare al cairo scelto grazie 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 grazie